Ciao! Se sei come me, ti piaccio apprendere sul lavoro e avanzare nella carriera. Ma l'e-learning può risultare anche noioso, non è vero? Non sempre! Se qualcuno deve dirmi come fare le cose in modo diverso, è meglio se parla la mia lingua, comprende la mia cultura e considera il mio ambiente di lavoro. Corsi davvero localizzati fanno la differenza. Poi, desidero esperienze di apprendimento che mi inducano a pensare contribuendo a insegnarmi nuove competenze. Desidero inoltre situazioni realistiche, come il mio lavoro. E più importante di tutti, voglio un'esperienza interattiva online che mi consenta di collaudare queste mie nuove competenze grazie a diversi quiz e attività. E, se faccio un errore, nessun problema! Fa parte del processo di apprendimento. Questa è la mia esperienza con i corsi online Cegos. Mi hanno aiutato ad ottenere nuove competenze senza farmi perdere tempo. E tu cosa sai? Era pure divertente! Davvero! Prova un corso Cegos oggi stesso e vedrai. Dai, provalo!